Amici appassionati del motosport, AX Magazine d'Italia, maggiore afro d'arena giornate di test, siamo con Andrea Chiavenuto, reduce dal campionato italiano velocità su ghiaccio, come è andato questo campionato? Sì, ciao a tutti, questo campionato è andato bene direi, l'esordio di questa macchina che abbiamo rifatto completamente non è stato male, c'è ancora molto da volare per quello che oggi siamo qui, che stiamo cercando di fare qualche test in più, qualche sviluppo, perché purtroppo non abbiamo avuto proprio la possibilità, poi come si sa il campionato del ghiaccio ha avuto anche una battuta d'arresto per via delle condizioni meteo e quindi ci siamo andati un po' in crisi e adesso stiamo cercando di prepararci al meglio per il prossimo anno. Mi vuoi raccontare un attimo della macchina, ex trofeo Andros se non sbaglio? Sì, è un ex trofeo Andros, era una macchina Peugeot ufficiale, era inizialmente dotata di un motore 1100 turbo, invece adesso l'abbiamo rifatta, stravolta, abbiamo ricostruito molti particolari, dal motore sostituito con un motore di una 4C, un Alfa Romeo, abbiamo costruito il cambio di sana pianta, tutto ricavato dal pieno per che fosse più robusto, e niente, i differenziali sono di origine X-Trac, la macchina pesa 1000 kg, insomma funziona, non possiamo lamentarci. No, che funziona ho visto perché ho seguito qualche gara quest'anno, quindi che funziona sì, bella, complimenti. Difficoltà al ghiaccio al di là del meteo che purtroppo è un po' penalizzante negli ultimi anni, che difficoltà ci sono anche a trovare nuove piste? Il problema del ghiaccio del nostro campionato purtroppo è proprio quello, noi abbiamo incentrato il campionato sulla pista di Pragelato che è l'unica in Italia che tiene in alto il valore, ci sono delle opportunità, sono difficili perché ci sono molte più regole, molte più leggi anche sul rumore, l'inquinamento e quindi ci creano un po' di problemi. Però diciamo che è una disciplina molto divertente dove uno impara veramente a guidare una macchina, perché ha scarsissima aderenza e bisogna fare tutto in maniera molto millimetrica. Questo, come si vede anche dall'aumento di iscritti, di derivazione realistica, viene fatto proprio per imparare ed avere più sensibilità col mezzo. È molto simile alla pista di Maggiore che trovo oggi, per esempio con queste gomme, e quindi direi che è un buon allenamento. Ottimo, quindi purtroppo l'ufficio Complicazioni è sempre aperto, come dico io, però vedo che c'è passione, c'è voglia, questo è importantissimo. Beh, ti faccio il bocca al lupo per la prossima stagione, tu so che durante l'anno però Terra, RX, niente? Ma allora, guarda, quest'anno è stata un'eccezione, noi abbiamo fatto, cioè io ho restaurato questa macchina e ho voluto correre, ma perché io volevo portarla a certi livelli. Purtroppo io non riesco quasi mai a correre per impegni lavorativi, infatti quest'anno comunque avevamo cinque macchine che tutti si sono ben comportati con, per esempio, Aldo Pistono che è quasi riuscito a vincere, a vincere due gare, e quindi unisco le due cose, la passione e il lavoro, però deve prevalere il lavoro, e quindi adesso abbiamo dei campionati da fare sul rally Terra, non so se riuscirò, mi piacerebbe essere presente qui, fare un paio di garette, anche perché la comodità, la pista, io ho molti anni che vengo qui, ma non ho mai girato in questa pista, non ho mai avuto il piacere di fare una gara. Oggi, come potete vedere, sono qui con una macchina, ma prettamente la ghiaccio, perché se guardate i freni, non ho freni, e quindi è proprio un'improvvisata di ieri, ma non riesco a programmare quello che verrà nei prossimi mesi. Mi piacerebbe fare qualche apparizione, vediamo. Dai, allora, facciamo così, perdiamoci un impegno non vincolante, una prima intervista di una gara, vediamo se riusciamo a farla, complimenti per la macchina, in bocca al lupo e forza. Grazie, ciao a tutti. Allora, noi ci diamo appuntamento alla prima del campionato italiano RX e alla prima del campionato svizzera autocross il weekend di Pasqua e Pasquetta, seguitici sui social, mi raccomando, a X Magazine, tasto like e condividete. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.